Sì, succede quasi una prima di venti mai, ad affari poi c'è una piccolissima edizione flash del TG1 all'interno, non dobbiamo dare la linea perché addirittura abbiamo l'onore di riceverla quando è, come dire, il suo curto, c'è il nostro Giorgino, c'è il nostro amico Alberto Natano, quando è il futuro di questa fantastica giornalista del TG1, poi sempre, dice, boi, 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 boi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.